Pavimento antiscivolo Grip Deck Specifico per ambienti umidi, come piscine, spogliatoi e zone doccia Prodotto in PVC morbido, consente all'acqua di defluire Puoi usare Grip Deck in molti ambiti Tappeto morbido e igienico, per i nostri amati pets Ideale anche per il mondo della nautica Utilizzabile a piedi nudi, antibatterico e fungicida Su Depatec.com Grazie a tutti